Buonasera a tutti e ben ritrovati, benvenuti o bentornati sul mio canale. Eccomi di ritorno a casa dalla mia escursione bolognese e romagnola. Stasera siamo un po' stanchini e quindi faremo una cena piuttosto veloce. Se vi va seguitemi e vi faccio vedere cosa mangiamo stasera di velocissimo. Buon inizio d'anno a tutti, a presto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel pollicione in su, magari anche un commento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E chi è la più contenta di tutti? La nostra Maya è venuta in trasferta con noi e adesso si gode il suo rientro a casa. Ciao a tutti e alla prossima. Un bacio.